Firme e strette di mano insieme alla certezza di aver avviato un percorso positivo di crescita per i rispettivi territori. I dieci partner piemontesi, valdostani e francesi oggi a Lanzo hanno firmato il protocollo di intesa sulla candidatura del piano integrato territoriale Graies Lab nell'ambito della programmazione trasfrontaliera Alcotra 2014-2020. Sono state illustrate le priorità del progetto rivolto in particolare ai giovani. Per offrire occasioni di sviluppo e di lavoro a quanti decidono di fermarsi in quei territori marginali finora un po' trascurati e che non hanno mai usufruito a pieno dei fondi europei. La scommessa della candidatura a questo progetto trasfrontaliero è particolarmente sentita dai territori del Canavese, Epporediese e Valli di Lanzo che per la prima volta lavorano insieme sui bandi europei. Ci troviamo qui per sancire un partenariato trasfrontaliero e un partenariato italiano di territorio per sviluppare le nostre migliori cose che abbiamo per sviluppare il nostro territorio. È il punto di partenza di un lavoro che abbiamo costruito in due anni di impegno per presentare un progetto credibile e che sul territorio abbia un risultato importante. Una candidatura importante per il territorio, per le zone omogenee 7, 8 e 9. Un progetto importante per i giovani perché il progetto è mirato per i giovani. È partito già prima con i due GAL che hanno lavorato sui giovani e speriamo che questo dia un risultato importante. Abbiamo bisogno di questa ventata di speranza per far vivere ai nostri territori e questo progetto trasfrontaliero è un slancio e un bellissimo punto di partenza. Quattro gli assi di progetto. Innovazione, turismo, mobilità sostenibile e servizi socioassistenziali.